Come sono venuti? Ma che tu dici a fa? Ma tu li hai cucinato? Tu li fai e te li hai mangiato. La pennetta si è carciofola affugata. Buonasera, voi cosa preparate per cena? Io preparo carciofi. Ho rito, l'ho già sbucciato, bel bel, ci ho aggiornato pochi barbatelli che stanno a mezzo. Li ho tagliati, vedete, a spaghetti, ho messo acqua e ci ho messo una bella spromuta il limone. Bella. Perché se non ci mettete il limone, il carciofo tende a diventare nero. Guardate che acqua è cacciata, avete visto? Poi ho snocciolato le olive nere, ho lasciato acqua di ghiaparie perché sennò vengono salate. Ho sbucciato tre aglietti, ho lavato il prezzemolo e adesso metto a fare tutto insieme. È anche molto dietetico per chi fa la dieta e chi non può mangiare soffritto. Dopo che si sono cotti i carciofi, da parte metto la pentola, faccio pennetta rigata con carciofi, una rattata di pecorina coppa, faccio avrei che specialità. Allora, ho messo i carciofi sul fuoco, ho messo l'acqua, olio di oliva, tre spicchi d'aglio, olive e capperi, prezzemolo. Metto un pochino di sale, perché è già salato, la roba finisce che viene troppo salata. Aggiungo un po' di pepe, metto il coperchio e faccio cuocere tutte le cose insieme, a dopo. Guardate come stanno pappuliano, già sanno cotto, guardate, è cattolo, vuole farlo stare qua, un odore fantastico. Guardate qua che musica, questa è musica. Guardate qua, guardate come è bello, guardate, non fa mangiare la carciofa, lo fa bene. L'ho fatto tutto insieme e non è niente di soffritto, sono stati costi a vapore, fammi ricominciare il sale. Mmm, che scusatezza. Adesso metto la pendola per fare le pennette. Ho rito, l'ho fatto la pennetta ricata, eh. Che carciofale. Guardate le pennette con i carciofi. Mmm, facitela. Un bacio da noi. E' un bel cotto, ma la cosa è un bel cotto? Grazie.